Mi chiamo Alice e ho scelto l'indirizzo FM perché mi piacerebbe lavorare nel mondo aziendale come esperta di finanza e so che questo corso mi dà le competenze necessarie attraverso lo studio di economia aziendale e diritto. In più, studiando due lingue straniere, sono in grado di rapportarmi con i mercati internazionali e inoltre la figura del ragioniere è sempre richiesta da tutte le aziende.